Invece il giro non ce ne sono Ah, ma è sedato al culo Buongiorno Perché non so nemmeno che cosa dire Mi sento un po' un cretino parlare davanti a una GoPro Così in mezzo al nulla Faccio questo video solo per presentarmi Volevo presentare il mio canale Il mio canale che si chiama Zero Piero Ho un'impressione di essere osservato Forse non è proprio il punto Il punto migliore che ho scelto Per iniziare a registrare Ci stanno girando i video Bene, vediamo di finire qua in garage Video di presentazione E sono in garage perché ormai Si è fatta una certa ora E non sto più registrando la mattina Perciò è buio, forse non si vedrebbe più niente E niente, cioè nei miei video Io risulto... Ma che c***o Voglio dire che nei miei video Nei video che vedrete Io risulto il più naturale possibile Nel senso che quello che vedete nei video Sono io Non è un personaggio che mi sto inventando O altro Io cerco di essere il più spontaneo possibile o meno Quando sono con una telecamera Così mi faccio video col telefono Sono sempre il più spontaneo possibile E non vado a... Poi a diciamo inquinare Le riprese magari cercando di essere un'altra persona La cosa importante che voglio dire E' appunto che lo scopo di questo canale E' quello di condividere la mia più grande passione Ovvero il ciclismo E condividerla con il maggior numero di persone A cui posso arrivare insomma E magari dal ciclista neofita Fino al ciclista un po' più evoluto diciamo Dato che il mio canale Vuol dire condivisione Io vorrei condividere appunto Nei miei video Quella che è la mia esperienza Quella che è stata la mia esperienza Nel corso del tempo Con il ciclismo fino ad adesso Sia su mountain bike Su strada Strada per me adesso Una novità Che la sto ancora un po' testando Bene quindi Bene 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 Sto girando 10.000 volte le clip Perché sto dicendo cose a caso Dato che io sono totalmente disordinato Non vi preparo per niente le scalette Basta Non ci vado Bene Quindi penso che l'obiettivo principale del mio canale Si sia capito Insomma Senza Senza troppi giri di parole Sono un ragazzo appassionato Di ciclismo E quindi Quello che voglio fare È condividere Madonna santa Che spavento il frigorifero Bene Quindi con questo è finito Io vi saluto da Zero Piero Ci vedremo con il mio primo video Che uscirà Dopo questo video Naturalmente Poi io Ovviamente adesso Vado in bici Scusatemi Ciao 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 Grazie a tutti.